Uno sportello che si apre improvvisamente davanti agli occhi, l'urlo del compagno che lo precedeva poi lo schianto terribile, un lampo bianco e poi nulla più. Il ricordo solo della voce del soccorritore che dentro all'ambulanza che viaggiava a sirene spiegate verso l'ospedale gli chiedeva come stava, che giorno era, il nome, il cognome, per capire se era cosciente e collaborativo. Solo questo ricorda di quei terribili istanti Maurizio Fiorelli, il ciclista coinvolto nel brutto incidente stradale in Viale Piceno domenica mattina verso le 8, poco prima del ponte sul Metauro, quando una donna ha aperto lo sportello, lato guida del suo furgone parcheggiato lungo la carreggiata, proprio mentre sopraggiungeva un terzetto di ciclisti diretto alla chiesa di Madonna Ponte per una messa celebrativa col Vescovo e la benedizione delle biciclette. Pochi metri ancora e sarebbero arrivati. 24 ore dall'incidente lo possiamo raccontare? Eh sì, lo possiamo raccontare, grazie a qualcuno che dal cielo ci ha messo le mani. Qual è la diagnosi? Stavamo meglio prima, come si dice, però comunque poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio perché quando cadi a terra non si sa mai come cadi, oppure anche quando sbatti contro uno sportello così in pieno non si sa mai cosa può succedere. Però quello che mi dispiace anche perché alcune testate hanno scritto delle cose proprio inesistenti. Ora invece Fiorelli è su di una sedia a rotelle con la frattura del piatto tibiale e alla testa del perone e ne avrà per una quarantina di giorni e qualche notte insonne. Ma quello che più gli fa male sono i brutti commenti sull'accaduto che sono apparsi sui social, proprio contro i ciclisti, lei di essere arroganti e indisciplinati sulla strada. Ma lui, 30 anni e più di bici, sempre corretto ed educato, non la manda giù. Addirittura ho letto stamattina dei commenti che mi hanno detto che è sempre loro che camminano in mezzo alla strada, che alla fine gli sta bene, che poi gli ho risposto. Ma comunque sia, questo invece è stato tutta un'altra cosa. Che anche io, sinceramente e personalmente, molti lo sanno, i miei colleghi che io tutte le volte che vedo qualcuno circolare in doppia fila o dei miei colleghi addirittura, gente che non conosco, che magari sono al semaforo, mi fermo e passano a corrosso, io li rimprovero. Li rimprovero di brutto. Perché voglio difendere questa categoria che ormai sta prendendo una piega brutta tutti contro di noi. E non è così, non è così. Non facciamo di tutto a nero un fascio, è logico. C'è sempre quello meno educato. C'è sempre come in tutti. Quindi insomma prudenza e rispetto un po' per tutto. E altro rispetto. La parola rispetto è che non c'è più.